buongiorno a tutti mi chiamo fabio pinto ho 18 anni vengo da pio sasco ho scelto di frequentare il conservatorio giuseppe verdi di torino perché abito vicino e inoltre hanno frequentato anche molti miei amici conoscenti e colleghi e si sono trovati molto bene sono musicista e produttore vorrei approfondire le mie conoscenze nell'ambito della chitarra del jazz in generale perché è un ambiente un genere che mi intrigano veramente tanto inoltre vorrei anche approfondire poi le mie conoscenze in funzione di realizzare le mie aspirazioni professionali andrò ad eseguire tre dei cinque standard proposti sul sito del conservatorio in ordine oleo in si bemolle there will never be another you in mi bemolle e i remember april in sol 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 e qui e qui è Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.